Voglio dare oggi il benvenuto a Fabrizio Ferrandelli e alla sua area politica all'interno, poi sono tutti amici con cui abbiamo fatto tutte le campagne elettorali, dalle amministrative in poi in azione. Con Fabrizio abbiamo fatto la campagna, come sapete è stato il nostro candidato sindaco a Palermo, hai preso il 15? Io ho già segato via il 2%, ha fatto un lavoro straordinario e noi contiamo molto su di lui per il radicamento in Sicilia. Ieri come avete visto sono entrati tre consiglieri poi passati all'opposizione in Puglia, ne stanno arrivando altri in Calabria, abbiamo una struttura a partire dall'onorevole Castiglione che non vedo, che copre bene Catania, abbiamo il sindaco di Siracusa Francesco Italia e adesso abbiamo Fabrizio che svolgerà un ruolo importante sia a livello siciliano che a livello nazionale e io lo coopterò dentro la segreteria in modo da dargli anche una agibilità politica al di là della Sicilia perché è una persona che io ho visto all'opera molto capace. Qui con me c'è Mara Carfagna che come sapete è stata eletta presidente del partito e ha implicitamente una delega allo sviluppo di tutto il mezzogiorno essendosene occupata anche come ministro. Aggiungo un punto, questa non va considerata un'azione ostile nei confronti di più Europa. Dal primo giorno dopo le elezioni noi abbiamo detto che la federazione che ieri abbiamo firmato con Matteo Renzi e con Italia Viva è aperta a più Europa. Purtroppo mi pare che ci sia ancora un po' di astio da smaltire ma speriamo che questo avvenga presto e siano pronti per venire. L'Italia ha bisogno di un centro riformatore e riformista che oggi non ha più, un'area liberal democratica che all'Italia manca da troppo tempo e che il partito democratico non è più in grado di coprire. Tra l'altro è la notizia di oggi che proprio sul Lazio la sinistra italiana ha deciso di andare col Movimento 5 Stelle. Quindi è sempre più evidente che la federazione del terzo polo sta mettendo insieme tutti i pezzi del mondo del centro riformista liberal democratico. Poi ci sarà un blocco di sinistra fatto da PD e 5 Stelle e un blocco di destra fatto essenzialmente da Fratelli d'Italia. Quindi quello che stiamo facendo è fondamentale ed essenziale e credo che il passo di ieri della formalizzazione della federazione a onta di tutti quelli che volevano che io e Renzi si litigasse nel giro di 5 minuti, diciamo per ora nello scenario politico italiano siamo gli unici a non aver litigato, lo dico con i dovuti scongiuri. C'è un altro punto che mi sento forse di far spiegare a Mara che ha a che fare con quello che è accaduto negli ultimi giorni e vorrei che magari dicesse due parole. Noi abbiamo bisogno di rafforzarci nel Sud, non possiamo lasciare il Sud alla narrazione che senza assistenzialismo il Sud è morto, perché non è quello che il Sud merita e lo dico da persona del Sud. Dunque il lavoro che sto facendo e che farò insieme a Mara sarà molto concentrato sul Sud. Ieri abbiamo scoperto un gigantesco blef che è dentro il progetto di autonomia di Salvini e Calderoli che è l'inesistenza dei soldi per finanziare i livelli essenziali delle prestazioni che vuol dire condannare tutta metà Italia al sottosviluppo. Ecco su questo Mara forse visto che abbiamo l'occasione e dire due cose. Un ultimo punto solo sulla manovra. Noi abbiamo presentato alla Meloni un pacchetto completo di misure, alcune delle quali ovviamente non condividerà, avendo scelto di mettere soldi su flat tax, anticipi pensionistici e altri. Tuttavia continuiamo ad aspettare una risposta puntuale. Abbiamo i nostri tecnici, hanno lavorato con i tecnici del governo in questi giorni così come era previsto, in particolare sul tema dell'energia e su un presa 4.0 spiegandogli come utilizzare meglio i soldi, gli stessi soldi che loro oggi mettono, quindi senza mettere più soldi. Ecco, vorremmo vedere adesso il momento che la Meloni prenda, io credo, atto che ci sono pezzi della manovra che possono essere migliorati a costo zero e dia una risposta. Prego Mara. Grazie Carlo, intanto benvenuto a Fabrizio e a tutta la sua squadra. Credo che oggi noi presentiamo non soltanto l'adesione di una persona ma anche un metodo, nel senso che non ci interessano le persone improvvisate, i campioni di like sui social, ma persone che possono rafforzare il nostro movimento politico portando la loro esperienza amministrativa, la loro capacità di gestione, il loro progetto riformista e anche il loro legame con il territorio. Questo metodo è ancora più importante al Sud perché il Sud è prigioniero da anni di personaggi parolai che sono bravissimi a fare e comizi nelle piazze e nelle televisioni ma poi sono assolutamente inefficaci nella gestione del territorio. Quindi questo è il metodo con cui noi vogliamo costruire la nostra classe dirigente soprattutto al Sud segnando la differenza e un cambio di passo. A proposito di Sud, ringrazio Carlo per l'opportunità che mi dà di dire intanto che la battaglia per il Sud per azione sarà assolutamente prioritaria in questa legislatura. E lo dico anche a quanti immaginano di dirottare altrove la quota Sud del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quegli 82 miliardi di euro che noi, Governo Draghi, avevamo programmato per finanziare infrastrutture, alta velocità ferroviaria, ferrovie regionali, porti, zone economiche speciali, presidi sanitari, asili, scuole, menze, palestre scolastiche. Ancora oggi quando parlano di rinegoziare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza noi non sappiamo se quella eventuale rinegoziazione toccherà quella quota Sud che è indispensabile per ridurre i divari tra il Nord e il Sud del Paese, per sanare questa frattura storica che esiste tra le due aree del Paese. Allora a chi immagina di dirottare altrove quegli 82 miliardi di euro che non sono assistenzialismo ma sono necessari per creare le condizioni affinché il Sud possa correre, competere con il resto del Paese e con le proprie gambe, noi diciamo che troveranno la nostra ferma opposizione. E se c'è qualche Ministro che non se la sente di gestire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza perché è una partita troppo complicata, faccia spazio a chi magari lo saprebbe fare meglio di lui. E a proposito dell'autonomia differenziata ha detto bene Carlo, nella legge di bilancio hanno inserito un trucco perché hanno previsto la costituzione di una cabina di regia per definire i livelli essenziali delle prestazioni perché tutti sappiamo che l'autonomia differenziata senza il riconoscimento dello standard minimo di servizi che deve essere assicurato su tutto il territorio nazionale è un'autonomia differenziata che spaccherebbe in due il Paese perché il trasferimento delle risorse avverrebbe sulla base del principio della spesa storica che è quel principio in base al quale i territori più ricchi hanno un trasferimento di risorse maggiore e i territori più poveri con minore capacità fiscale hanno un trasferimento di risorse minore. Allora per superare il principio della spesa storica bisogna non solo definire l'EP ma bisogna finanziarli. È quello che il Governo Draghi ha fatto nella scorsa legge di bilancio quando ha finanziato per quasi 2 miliardi di euro tre livelli essenziali delle prestazioni. Asilinido, trasporto scolastico degli studenti con disabilità e assistenti sociali. Grazie a quel finanziamento che è progressivo e cresce gradualmente nell'arco dei 5 anni oggi i comuni italiani e molti del Sud hanno nei loro bilanci già quest'anno risorse in più per poter finanziare il funzionamento degli asilinido, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità e per poter assumere più assistenti sociali laddove mancano. Allora senza prevedere legge di bilancio e il finanziamento dell'EP l'autonomia diciamo che nel migliore dei casi è un trucco, nel peggiore dei casi è un danno per le aree più svantaggiate del Paese. Quindi è un'autonomia senza livelli essenziali delle prestazioni finanziati in legge di bilancio. Tra l'altro noi presenteremo un emendamento con la collega Gelmini per finanziare un LEP che è già definito quindi aspetta solo di essere finanziato quello per il diritto allo studio e anche per prevedere un fondo per finanziare i futuri LEP che verranno definiti. Allora un'autonomia senza livelli essenziali delle prestazioni e senza fondo di perequazione è un'autonomia che vedrà la nostra opposizione. Siamo favorevoli all'autonomia, assolutamente favorevoli ma così come prevista dalla Costituzione con i livelli essenziali delle prestazioni e con il fondo di perequazione. Aggiungo una cosa, per chi si è letto le 23, e ho capito parlandone con un po' di gente che non si è letta nessuno, le 23 deleghe di poteri, 23 poteri chiamiamoli così che vanno alle regioni, ce ne sono alcuni singolari tipo i rapporti con l'Unione Europea, cioè adesso per dire che il Molise dovrebbe avere rapporti diretti con l'Unione Europea, il commercio internazionale, chi siede nel consiglio commercio, la regione Veneto, le reti di distribuzione elettriche, cioè quante reti di distribuzione elettriche avremo in Italia, ne vogliamo fare 21, cioè che vuol dire dare la competenza sulle reti di distribuzione elettriche? Io suggerirei a tutti di andarseli a leggere queste competenze che dovrebbero passare alle regioni, perché mi è capitato di raccontarle a un imprenditore Veneto che mi ha detto ma che siamo matti, ma ti pare che possiamo andare noi come Veneto ad avere rapporti con l'Unione Europea a negoziare gli accordi internazionali di libero scambio? Allora, quello che noi pensiamo è che l'autonomia vada discussa nell'ambito di un riassetto generale delle istituzioni dello Stato, che prevedano per esempio che alcune competenze vadano totalmente riattratte al centro, come per esempio le reti strategiche di investimenti energetici, che hanno afferenti agli investimenti energetici. Dunque ci sono cose che devono essere ricentralizzate e cose che devono essere devolute. Questo ragionamento può essere fatto solo nell'ambito di una più ampia commissione bicamerale che è in sede anche redigente, quindi dandogli poteri effettivi analizzi cosa vuol dire l'autonomia nel contesto del federalismo, nel contesto della questione che rimane aperta per noi del bicameralismo perfetto, nel contesto del premierato, del presidenzialismo eccetera eccetera. Quindi quello che noi suggeriamo al governo di evitare fuga in avanti, di impostare una commissione bicamerale redigente e di fare un lavoro serio su tutti i pezzi delle istituzioni che oggi funzionano male nel loro insieme e per tutti, per il nord come per il sud, evitando di costruire un'Italia fatta a puzzle dove in Veneto si insegna il Veneto, in Campania si insegna il campano, il napoletano e che prevede 21 diverse reti di distribuzione dell'energia perché ci facciamo ridere dietro da tutto l'universo. Ecco, quindi la nostra proposta è questa, ragioniamo sull'autonomia all'interno della commissione bicamerale redigente, noi siamo pronti a farla, a investirci, a sederci al tavolo, a ragionare in modo costruttivo e propositivo, ma non così, non perché se no Calderoli sta male e non gli piace la maggioranza o Salvini perché signori, fino adesso questo governo è il governo di Salvini, sull'ONG, sul tetto al contante, sulla flat tax, su quota 43, su tutto questa manovra è la manovra di Matteo Salvini. La politica delle migrazioni è la politica di Matteo Salvini purtroppo e le riforme istituzionali, l'unica di cui si riparla è una riforma di Matteo Salvini. Ora siccome io non penso che ci possa essere sciagura più grande in Italia che avere come agenda di governo quella di uno che andava in giro e mutande al papete, sono dell'idea che la Meloni dovrebbe fermarsi un secondo e cercare di capire che cosa sta facendo, perché per il momento mi pare molto molto confuso. Passo la parola a Fabrizio Ferrandetti. Grazie. Come Carlo ricordava, sei mesi fa eravamo a Palermo, il nome del giugno, a concludere una straordinaria campagna elettorale. Quando abbiamo iniziato Carlo ci davano spacciati, c'era Matteo Richetti, eramo al 3-4%, invece in realtà abbiamo concluso una campagna elettorale che ha portato un risultato straordinario consegnandoci il 15% delle preferenze. quella battaglia di Palermo fu antesignata in Italia, ha rafforzato il progetto che era stato lanciato da Carlo Calenda con la sua candidatura a Roma ed era partito un'onda che avrebbe portato con l'accelerazione della crisi di governo a poter portare il progetto di Carlo ben oltre il 10%. Durante quell'accelerazione sono stati commessi degli errori e allora io insieme a Maria, Monica, Rita e gli altri componenti della direzione, da Presidente dell'Assemblea Nazionale di Pioropa insieme alla Tesoreria Nazionale e agli altri presenti gli organismi, abbiamo preferito non creare delle lacerazioni e di accettare candidature senza paracadute. Subito dopo le elezioni la nostra riflessione è continuata, i rapporti con Carlo sono sempre stati fitti, abbiamo sempre contribuito senza slabbrare la comunicazione a creare questo dibattito per augurarci una ricomposizione del quadro. Rispetto a questo noi riteniamo che c'è un filo di unione fra la nostra esperienza politica e il progetto lanciato da Carlo Calenda. Nel 2015 quando mi dimisi da consigliere regionale in Sicilia fondammo un movimento che si chiamava il movimento dei coraggiosi insieme a tante donne, giovani, amministratori siciliani e credo che questa parola coraggio rappresenti tutta la linea politica di azione e del progetto che Carlo Calenda sta portando in Italia per dare un'alternativa di governo seria al Paese, l'unica credibile, l'unica strutturata, l'unica propositiva. Ed è per questo che noi riteniamo di voler contribuire al rafforzamento della federazione. Abbiamo aspettato che la nave andasse in porto e adesso che più Europa affronterà una stagione congressuale vogliamo lasciare che all'interno quegli iscritti e quei dirigenti continuino il dibattito e sappiamo che in tanti là dentro sono scontenti di una politica di appiattimento di un partito democratico che a sua volta sembra essere subalterno persino al Movimento 5 Stelle ma non vogliamo contribuire a aumentare il caos e vogliamo che quel dibattito continui serenamente all'interno degli organismi e noi vogliamo con serenità e robustezza sperando che le nostre strade magari fra qualche mese possano rincrociarsi e rafforzare però da subito la linea politica del progetto di Carlo e del terzo polo in generale. Su questo riconosciamo anche una grande intelligenza e generosità a Matteo Renzi per aver rafforzato quest'area politica e vogliamo ringraziare formalmente te Carlo, Mara, Matteo per la fiducia che mi avete sempre dato e che mi continuate a dare e che continuate a dare al gruppo dirigente con il quale vogliamo affrontare questa nostra esperienza e da oggi senza esitazioni noi siamo in azione. Domande? Prego No ma io quando dico la manovra di Salvini mi sembra di insultarla la Meloni, più di così non posso dire, non penso che ci sia una espressione più netta, negativa, allora facciamo, la metto così semplice, per me dire la manovra di Salvini è come dire la manovra è un disastro, capito? Cioè l'utilizzo diciamo di una metafora, ma è questo, scherzi a parte, ma c'è un tema però e su questo io attribuisco totalmente la responsabilità alla Meloni che al di là di tutto è vero, la cosa che è sorprendente è che l'agenda di questo governo da quando è iniziata è l'agenda di Salvini, cioè tutte le cose che stiamo vedendo sono proposte di Salvini, disastrose ovviamente, tale per cui oggi noi ci troviamo e vorrei che fosse chiaro, la prossima bomba sociale non è il taglio del reddito di cittadinanza per i percettori sotto 30 anni che c'è in tutta Europa, che non c'è in tutta Europa, cioè non danno sussidi a chi ha sotto i 30 anni, danno strumenti per trovare un lavoro, la bomba è la sanità, noi oggi abbiamo 50 miliardi di spesa sanitaria per tagliare le file, quindi fatta privatamente, stiamo distruggendo, ormai per metà la sanità italiana è privata, ma non convenzionata, privata nel senso che la gente si va a pagare le cure e si indebita per pagare le cure, capito? Cioè quindi a me del tetto al contante, del POS, delle quota 43, tutte queste cose, non ce ne frega niente, c'è un disastro nazionale che è rappresentato dai giovani e dalla sanità. Questi sono i due temi, abbiamo fatto delle proposte alla Meloni, si desse una svegliata perché io francamente una manovra così, insulsa, che insiste, stiamo discutendo da giorni sul tetto al contante. Ma signori, ma stiamo scherzando? Io sono completamente sfavorevole ad alzare il tetto al contante, ma vi sembra che questo sia il problema dell'Italia? Cioè come siamo messi? Questa manovra sul piano strutturale non ha nulla, ma dico nulla, ho dato un giudizio abbastanza netto? Di? Chi è Paolo Barelli? No, scusate, non voglio dire cavolate, ma non so chi sia. Ma è in Parlamento? No, io non ho mai incontrato sto Barelli, ragazzi, non sapevo chi era, però scusate, è colpa mia perché non sono mai stato in Parlamento, quindi sarà persona notissima. Non so se ho smentito a sufficienza. E che ne so, come ci comporteremo? Gli abbiamo fatti, vediamo che cosa fa il governo. interno. No, noi abbiamo fatto un incontro con la Meloni che è andato bene, non perché condividiamo la manovra, ma perché le cose che gli abbiamo portato sono state lette e studiate doverosamente. Abbiamo identificato, su alcune cose non siamo d'accordo, quindi era inutile discuterne. Poi ci sono due in particolare, tre cose. La prima è il meccanismo con cui si fa il taglio delle bollette, perché i crediti d'imposta non funzionano e quindi gli abbiamo spiegato come fare il disaccoppiamento e contemporaneamente come fare uno sconto in bolletta del 50%, spendendo 2 miliardi di euro in meno. Nei giorni successivi i nostri persone hanno fatto approfondimenti tecnici di Chigi e del Tesoro. Stessa cosa su impresa 4.0, allargata alla transizione e ripristinata così com'era, perché come è fatta oggi dai 5 Stelle fa schifo. E anche questo abbiamo spiegato come fare il funding dai fondi europei. Adesso non abbiamo avuto risposta, ma al di là di questo, anche se migliorassero queste due cose, che io credo sarebbe un contributo importante per tutto il Paese, non è possibile che il dibattito con questo Paese sia il POS. Voglio dire alla Meloni che la discussione su alzare quello che si può pagare con i POS. Ce l'abbiamo noi e con tutto il rispetto il Botsuana forse. E allora incominciasse a parlare delle cose che contano in un Paese serio, perché io mi sono stancato di parlare di POS. Detto al contante, avevano promesso rivalutazione delle pensioni minime, che è l'unica cosa che ci sta, perché le pensioni minime in Italia sono da fame, di raddoppiarle 6 Euro al mese in più dell'inflazione. Cioè questa è una presa per i fondelli dei loro elettori, degli italiani, senza che ci sia un solo elemento su cui noi possiamo dire che questa cosa è fatta bene. Non so, secondo voi continuiamo a flertare con la Meloni? Sono sufficientemente chiaro? Prego. Altre domande? Bene, grazie mille. Grazie. 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 Grazie.